La tua prima visita E' normale che succeda questo? Aiuto! Tu non dovresti essere qui. Dovevi morire su quel ponte. Pochi fortunati sopravvivono a un disastro. Ma poi, uno a uno... ...la morte se li prende tutti. No! Sta dicendo che questo non si può fermare. C'è una risposta per tutto. Si tratta di uccidere... ...o essere ucciso. Nessuno è al sicuro di... No! Oh mio Dio! Nessuno è al sicuro di... 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 ... Nessuno è al sicuro di...